Benvenuti a Porto Cesareo. Stamattina sono con Stefano. Ciao Sara, ciao a tutti. Vi presentiamo in vendita un appartamento indipendente. Sì, un appartamento composto da tre unità con tre ingressi indipendenti, due a piano terra e uno a primo piano. Di qua abbiamo l'ingresso per un bilocale, l'ingresso per il primo piano e l'ingresso per il piano terra. Eccoci qui. Andiamo a vedere. Allora Stefano, questo è l'appartamento più ampio del piano terra. Come vedi si compone di due stanze che formano un unico ambiente nella zona giorno, con le bellissime volte a stella e questo fantastico caminetto che è già acceso. E' accogliente con questo massiccio legno come trave di sostegno della cappa e poi abbiamo, come dicevi Sara, queste due meravigliose volte a stella ben ristrutturate ed incantevoli solo ad osservarle. E' vero. E poi la casa prosegue con la zona notte alle mie spalle che si compone di due stanze, una più grande camera da letto, una più piccolina, il bagno e una zona esterna. Sì, un piccolo pozzo luce per poter dare luce a questa bella camera. Siamo nell'appartamento del primo piano. Una zona giorno unica con un angolo cottura veramente carino. Una bella zona giorno, spaziosa, tetto spiovente, cuscina in muratura, pavimento in gresso forcellanato, tutto in stile rustico, come anche questo rivestimento in carparo. E alle nostre spalle abbiamo la zona notte che si compone di tre camere da letto, una matrimoniale e due più piccole e un bel bagno con vasca e idromassaggio. Da questa parte andiamo a vedere la veranda. Una bella veranda, che dire, io credo sia il punto forte, Sara, di questa casa. Concordo con te. Guardate che bello, una copertura in legno che dà calore, vista, aria e luminosità alla casa. E poi siamo a Porto Cesario, a soli 200 metri dal mare, una delle più belle spiagge del territorio. Venite a vederla!